Gol di Burnic che non ha mai segnato, ha segnato proprio nel momento giusto il gol più importante. Pallone di Rivera per me è andato su Eld. Questo qui ha cercato di stoppare la palla e io c'ero lì accanto. Calciando anche male ha fatto il gol. Pareggio di Burnic, pareggio Burnic, due a due. E quel due a due lì ci ha ridato fiducia. Ora per sognare la vittoria serve solo una magia di Gigi Riva. Una palla di Dominghini che controllo al limite dell'aria.